Si sa che a Londra accadono sempre cose strane e stasera la stranezza qua veramente è la protagonista incontrastata. Mi trovo ad un party di Shodich alla Strong Room, che è un locale famosissimo di queste party, perché sono stata invitata nell'ambito di Shodich a questo evento organizzato in collaborazione con The Health, il sito famoso di recensioni e di prenovazioni per i ristoranti. Questo è il cortile del Strong Room Bar dove ci sono una serie di bancarelle dove si espongono cibi improbabili e che però potrebbero essere in tema della serata e questo, come sarà il party del futuro, che cosa si mangerà, che tipo di intrattenimenti ci saranno e quindi sono qua tutte queste novità, diciamo, precursori del cibo futuro in bella mostra a disposizione di chi vorrà assaggiarlo, di chi avrà il coraggio di assaggiarlo, ma poi il coraggio ce l'hanno tutti. Io poc'anzi ho assaggiato questo gelato che fa questo signore qua, ed è un gelato al caramello con il room ed è veramente ottimo. Poi ci sono cose stranissime, però guardate pure gli abbigliamenti, sono tutti vestiti da scienziati pazzi. C'era uno poco fa con gli occhiali da subacchio, con la maschera da subacchio. Io faccio fatica a commentare perché secondo me le immagini sono molto più eloquenti dei commenti. ecco, questo è quello con la maschera da subacchio. Ah, ma questi con le maschere da subacchio sono forse una squadra. E qua ci sono, ecco appunto, qua fanno assaggiare... Poi li porto pure dentro perché dentro non è da meno quello che hanno combinato. Questa è una gara che fanno prendere le mail con... e per fare il mondo è caldo. Questo è il clima. Poi se vedete abbigliamenti strani non state caso. Questo infatti viene con la bicicletta da nowhere e sta andando non si sa dove. Qua ci sono le patatine, le chocolatini... Qua ci sono i piccoli cupcakes. Ci sono i cupcakes di Prime Rose Bakery. Qua non so che sfanno. Ah, tutti i nostri patatini. li porto dentro, perché hanno organizzato delle... non so come chiamarle... ma non... non sono vere e proprie ex professionisti. Sono tutti convinti vestiti con il camice. da paziente o da dottore. Questo non si sa come è vestito. Questo non si sa come è vestito. questo è l'ingresso della... è molto grande. C'è musica dal vivo pure. Quindi... sarà un po' di confusione. Magari non succeda più bene. molto bene. Non si sa più bene. Ci sono più bene. Ecco, questi fanno... fanno le bubbles. Vediamo, vediamo. Iniziamo a vedere cosa... cosa fanno. Grazie mille Allora praticamente sono tutti i tè che ha la frutta, contendono delle boba, che sono tipo la tapioca oppure le boba che scoppiano in bocca Ok, grazie, dopo per aver visto i registrati, grazie Quindi è quello del bubble tea, poi c'è pure un altro, quelli sono bottoncini quando devi vedere Qui c'è un altro, un banchetto che fanno esperimenti strani, non voglio manco rivedere Ah, stanno pulendo il iPhone Questo vedete, questa è la sala della shopping bar E' attrezzato con un exhibition di cose strane E' un negozio che vende tutte le cose centriche, che si chiama centri Questo è un bel ciascario Tutte le cose tinte, naturalmente pure i cappi Ah, qua ci mettono, oltre al bubble, ci mettono delle cose specchiate Poi naturalmente c'è il barra a pagamento E al piano superiore c'è l'intero casinocolità unirettora Adesso riporto, vi faccio vedere Devo direttore a passare di nuovo dal Un bel ciascario Grazie a tutti. Grazie a tutti.